La pioggia è una delle condizioni atmosferiche più comuni. Le nuvole sono formate da tantissime goccioline d'acqua che sono il risultato dalle evaporazioni dell'acqua dal suolo terrestre. Quando il peso delle goccioline d'acqua diventa troppo pesante, si forma la pioggia. Con questo esperimento proviamo a vedere come funziona questo processo. Che cosa ci serve per realizzarlo? Per questo abbiamo bisogno di un vasetto con acqua, acqua, olio, colorante blu e schiuma da barba. Dopo aver preso tutto il necessario possiamo cominciare. Riempiamo fino a tre quarti il barattolo con l'acqua. Ricopriamo la superficie con la schiuma da barba che sarà le nostre nuvole. Nel piccolo contenitore versiamo l'olio e l'acqua e coloriamo con il colorante blu. Poi mettiamo delle gocce su tutta la superficie della schiuma da barba. Aspettiamo qualche minuto e vediamo che le gocce di pioggia iniziano a cadere. A presto! Grazie a tutti.